Musica E' stato firmato questa mattina in prefettura il protocollo aggiuntivo all'intesa sottoscritta già il 23 mazzo scorso contro lo sversamento illecito e la combustione di rifiuti sulle principali strade extraurbane della provincia di Napoli. Ad aderire al nuovo patto sono stati altri 8 comuni, 3 ASL, l'ARPAC e le associazioni ambientaliste. L'obiettivo è quello di monitorare e prevenire situazioni illecite. A dare supporto questa volta c'è anche la Regione Campania che ha fatto sapere di voler stanziare dei fondi per un aiuto concreto. Un forte impegno in prospettiva, quello che oggi è stato raggiunto grazie alla sottoscrizione da parte della Regione, ad affiancare con le risorse, ad affiancare con le politiche l'impegno degli enti territoriali e a mio modo di vedere un dispiegamento ancor più massiccio di tecnologie, penso agli impianti di videosorveglianza, finalizzati proprio a preservare il territorio dalle insidie di quanti, in modo incivile, offendono una bellezza altrove non individuabile. È un dato positivo quello di essere riusciti a smuovere l'interesse e l'attenzione politica di otto comuni che venuti a conoscenza di questo passo fatto nel mese di marzo hanno ritenuto di unirsi ai colleghi sindaci degli altri comuni. È un passo importante ulteriore perché ha chiamato in causa cinque associazioni ambientaliste che con il loro volontariato controlleranno il territorio, a loro volta segnalando le forze di polizia.